Il maltempo di questo periodo ha fatto una vittima. In tutto l'Appennino tosco-romagnolo le precipitazioni sono state intense. In certi punti la neve è raggiunto oltre il metro di altezza. Nei presse di Badia Tedalda l'hanno ritrovata senza vita. In mezzo alla neve alta il clima di questi tempi sull'Appennino non è stato certo dei migliori e per Cristiana Gogu, 50 anni, origine rumena, da anni trapiantata nell'oasi della Cocchiola, non è stato facile ad affrontare il netto calo delle temperature soprattutto nelle ore notturne. Alla Cocchiola viveva da sola dove allevava i suoi cani di razza Mionitic, un cane che arriva dalla regione dei Carpazzi di taglia grande che è selezionato per la guardia del bestiame. Un cane leale e molto forte. Cristiana l'ultima volta l'hanno vista salire in Pullman in direzione Sansepolcro. Era andata a fare la spesa non solo per sé ma anche per i suoi amici animali. Poi la fitta nevicata, il ritorno a casa e probabilmente il malore che l'ha uccisa. È stata scoperta in maniera casuale e quando i soccorritori sono arrivati per lei non c'era più nulla da fare. Adesso ci sono cinque femmine e tre cuccioli che aspettano un amico che le possa accodire. Cristiana, una vita sicuramente non facile, viveva per loro ma questa volta i suoi cani. Nulla hanno potuto per poterla salvare.